scientificas il podcast più ascoltato dei super computer è arrivato l'episodio 383 ciao da marco dal giappone ed andrea dall'italia 383 che computer non ci distruggano quando prenderanno il potere sul pianeta che tanto peggiori così non possono fare sicuramente ma direi che ce la stiamo già cavando egregiamente anche da soli per crearci delle difficoltà di varia natura la rise of the machines sarà fatta dai super computer che aspettano semplicemente 50 anni e poi non c'è rimasto più nessuno a sterminare abbiamo già vinto senza sparare neanche un colpo questo potrebbe succedere speriamo ovviamente di no ma insomma ci stiamo mettendo nelle condizioni per farlo succedere rapidamente per certi versi tipo mi viene sempre in mente una cosa che raccontava mio professore di latino raccontava sempre ha raccontato forse una volta in cui i soldati romani facevano un urlo di battaglia talmente impressionante che capitava spesso che l'esercito nemico andasse in rotta prima ancora di iniziare il combattimento ah interessante barritus volevo proporlo per la nazionale di rugby al posto della H cioè gli ozelandesi fanno il ballo di guerra loro potrebbero riprendere una tradizione altrettanto antica cercando di intimidire gli avversari grandi ragazzi tra l'altro io adoro il rugby sia detto e sia chiaro beh è un signore sport nobilissimo chi lo pratica ad alto livello è spettacolare molto bene abbiamo citato i super computer perché diciamo c'è una notizia di questi giorni abbastanza abbastanza curiosa anche se vogliamo cioè è stata pubblicata la nuova lista dei 500 computer più potenti del mondo questo è ciclicamente viene aggiornata questa classifica e ci sono appunto i 500 in realtà super computer vuol dire qualcosa di abbastanza più complesso che non computer con le prestazioni più elevate e diciamo il primo in classifica è un computer giapponese su cui più meno tu Marco sei seduto sì magari cioè in realtà sì nel senso l'edificio dove sto io non è dove c'è Fugaku che questo sta sta a colbe però è un c'è nel primo piano c'è tutta una serie di 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 computer molto performanti appunto che poi quando fanno l'open day si può accedere sono rec 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 di 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 computer da server però cioè non sono quelli che ci abbiamo noi a casa ma sono praticamente dei cassetti con cpu che calcolano essenzialmente in parallelo e Fugaku tra l'altro devo confessare l'ho controllato prima di non sapevo che volesse dire l'ho controllato prima di cominciare la puntata è un nuovo alternativo al monte fuggi cioè l'itogramma fu è lo stesso di fuggi e Gaku è cima della montagna e loro dicono che quasi all'exaflop anzi oltre l'exaflop come come potenza di calcolo però appunto no sono computer paralleli che ottimi per fare forse il mining dei bitcoin ecco quello sì allora sicuramente diciamo tanto cerchiamo un attimino di contestualizzare magari che cosa vuol dire che sono diversi da quelli che abbiamo sulla nostra scrivania in realtà sono diversi soprattutto per come comunicano tra di loro i vari nodi cioè questo Fugaku è composto da tipo 7 milioni e mezzo di core cioè ha un numero di core di calcolo che diciamo nei nostri processori casalinghi spesso è 6 8 10 a seconda diciamo della tipologia di processore che noi stiamo utilizzando a diversi core di calcolo e sono normalmente compresi diciamo tra 4 e 16 è un numero abbastanza comune per i computer che sono di uso di uso corrente moderni lui ne ha 7 milioni 630 mila 848 che ovviamente non stanno tutti in un singolo processore o diciamo non è del tutto ovvio forse ma non stanno tutti nello stesso processore e non stanno neanche tutti sulla stessa scheda madre cioè fisicamente sono posizionati in un certo numero probabilmente molto grande di computer fisicamente separati tra di loro e interconnessi tra di loro complessivamente questo ha tipo 5 milioni di gigabyte di ram cioè 5 milioni di gigabyte è un numero mostruosamente grande ha dei processori particolari che non sono né direi né intel né amd così a giudicare dal nome è una collaborazione tra riga né Fugizzo quindi si sono fatti tutto in casa e anche il sistema di interconnessione tra i vari nodi è proprietario cioè diverso da quello più frequente sui super computer cosa vuol dire sistema di interconnessione in realtà praticamente è una rete di computer un super computer che collaborano tutti insieme per fare calcolo parallelo questa cosa è fattibile sostanzialmente perché il sistema di interconnessione è la cosa molto figa cioè non è tanto il computer che ti rallenta ma è proprio il sistema con cui i vari nodi comunicano tra di loro che consente il calcolo parallelo efficiente cioè i vari core che sono all'interno di un processore accedono tutti attraverso i canali di comunicazione che sono implementati sulla scheda madre alla ram alla stessa ram che è condivisa tra di loro quindi la velocità con cui diciamo in qualche modo accedono ai dati e scambiano i dati fanno i calcoli mettono a disposizione i loro risultati è limitata dalla velocità con cui riescono ad accedere fare l'operazione e restituire un risultato e metterlo a disposizione degli altri core se devono fare calcoli in parallelo molti programmi che noi utilizziamo non fanno calcolo parallelo cioè utilizzano un singolo core al più la maggior parte dei programmi che usiamo sui nostri computer utilizza una frazione di core cioè il computer fa fare allo stesso core le operazioni richieste da più processi da più programmi perché ce n'è d'avanzo in questi casi invece in cui dobbiamo fare calcoli molto pesanti un esempio tipico di calcoli estremamente pesante sono le previsioni del tempo cioè per fare i calcoli di dinamica dell'atmosfera e cose di questo genere la diciamo la potenza di calcolo necessario è straordinariamente grande il numero di calcoli da fare mostruosamente grande sono tutti calcoli relativamente semplici cioè non c'è bisogno di fare di pensare a risoluzioni di calcoli estremamente complessi per qualunque cosa questa cosa voglia dire sono però un numero sterminato di calcoli i cui risultati servono per fare ulteriori calcoli cioè di solito vengono fatti in modo in qualche modo iterativo quindi c'è bisogno che i calcoli siano fatti rapidamente i risultati siano messi rapidamente a disposizione degli altri core che stanno facendo lo stesso calcolo in modo tale da fare da ottenere il risultato finale più rapidamente possibile chiaramente diciamo che l'analogia è quella con le gpu più che con le cpu no perché appunto i core i processori che tu dici sono quelle le cpu cioè le central processing unit che sono il nucleo solo che poi negli ultimi anni chi ha preso veramente il potere dentro al pc in termini di potenza sono le gpu perché appunto come tu dicevi giustamente noi i calcoli nostri registrare ad asid e così via non porta via molto calcolo però quando uno fa questi giochi 3d in cui c'è il rendering in parallelo di tutta la stanza eccetera eccetera viene affidata a questi micro core delle gpu che sono dei micro super computer se vogliamo e che lavorano in parallelo quindi in questa infatti uno di questi il secondo mi pare summit utilizza proprio le le tesla che non sono le macchine di Elon Musk ma le le schede grafiche invidia senza l'uscita grafica proprio per il calcolo parallelo tra l'altro sono estremamente efficienti per il calcolo soprattutto per il calcolo matriciale le le gpu e questo le rende estremamente utili per per fare determinate tipologie di di conti ma come dicevo il collo di bottiglia quando noi allarghiamo il numero di core è il fatto che devono poter comunicare tra di loro a una velocità confrontabile ai core che stanno dentro fisicamente dentro la stessa cpu oppure su due cpu per esempio posizionate sulla stessa scheda madre questa cosa è estremamente complicata ed è il motivo per cui diciamo il re il reale cuore di questi di questi sistemi questo fugaku si basa su questo sistema interconnessione che si chiama tofun interconnect d che sicuramente è altrettanto diciamo autarchico se vogliamo come mentre la maggior parte degli altri sono basati su una tecnologia che si chiama infiniband infiniband è una tecnologia direi sviluppata da una dita che si chiama melanox e questa ci cons questa la conosco un pochino di più è una una tecnologia di comunicazione simile al protocollo ethernet solo e che non ha neanche una velocità mostruosamente più elevata del protocollo ethernet nel senso che oggi esiste la possibilità di collegare due computer attraverso un cavo ethernet a 10 tranquillamente a 10 o addirittura 100 gigabit al secondo mentre invece le performance della della appunto della rete infiniband sono confrontabili c'è una due e mezzo fino a 120 gigabit al secondo quindi in linea di principio la velocità espressa in questo modo non sembra tanto diversa ci sono però due differenze una che infiniband lavora non ha come posso dire non a livello asincrono quanto l'eternet diciamo il protocollo che noi utilizziamo di solito cpp è piuttosto lento nel senso che ha bisogno di ogni volta inizializzare una comunicazione scambiarsi un certo numero di pacchetti per dire ok sto per mandarti un dato ok adesso arriva il dato ecco il dato hai ricevuto il dato ok sì bene grazie sono un certo numero diciamo di comunicazioni prima e dopo che consentono lo scambio della vera informazione e questo lo rende molto più lento cioè nel momento in cui se io devo trasferire un file molto grande poi vado alla velocità che c'è scritta lì cioè cento di un gigabit al secondo 10 gigabit al secondo quello che è ma se io devo trasferire tanti file piccoli come sono i risultati di singole operazioni che sono pochi byte tipicamente a quel punto lì la velocità con cui efficacemente trasmetto i dati è molto limitata perché un grosso overhead cioè c'è un sacco di informazioni in più che deve essere scambiata e che non va sostanzialmente cioè non serve per la comunicazione ma non è il dato questa cosa non funziona così cioè non potrei costruire un super computer basandomi su una rete che funziona in questa maniera ma sono come posso dire una diciamo ci vuole qualcosa di più efficiente proprio nel instaurare la comunicazione e questo tipo di interconnessioni di solito dà la possibilità di avere un accesso diretto alla ram cioè sostanzialmente è un modo per allungare i canali di comunicazione della scheda madre tra i vari processori che sono installati sulla scheda madre e la ram che è installata su quella stessa scheda madre tra schede madre diverse ovviamente questa cosa non funziona esattamente come il bus sulla come posso dire sulla scheda madre ma comunque riduce di molto la come posso dire riduce di molto la latenza la latenza la riduce tipo di un fattore 5 e questo è notevolmente grande quindi rende la possibilità dalla possibilità veramente di due diverse cpu messe in diversi nodi fisici di comunicare tra di loro e scambiarsi risultati lavorare in parallelo quasi come se fossero all'interno della all'interno della della stessa macchina e potessero accedere alla ram nello stesso modo ram che peraltro nel caso di fugaku è qualcosa tipo dicevamo 5 milioni di gigabyte cioè c'è un numero veramente 8 giga di ram questo ha 5 milioni di giga di ram una cosa perché appunto lì anche lì il problema è l'accesso no se uno l'avesse sull'hard disk questi dati richiederebbe un tempo di accesso elevatissimo invece tutto il gioco si tratta di tenere tutto in memoria c'è anche da dire che tutti questi super computer non sono dedicati a un solo obiettivo di solito come per il telescopio si fa una proposta si dice voglio studiare questa cosa qui col calcolo parallelo mi servono queste ore di calcolo viene valutato da un da un panel da un gruppo di ricercatori che va la valuta e ti danno quello che più o meno quello che hai chiesto e poi tu puoi fare i tuoi conti ad esempio non so simulazione di galassie evoluzione dell'universo fluidodinamica come diceva andrea ce ne sono infinite di possibilità anche le proteine tutta la parte biologica hanno tutte le foglie delle proteine molte le sono rivendute molto come aiuto alla lotta contro il covid che non so quanto sia vero no però insomma le applicazioni sono sterminate ecco c'è da dire che sono sterminate quindi sono rivolte a più differenti obiettivi più discipline tra l'altro nella top ten c'è una macchina italiana che è del leni hpcs al numero 9 ma la vera curiosità è la macchina al numero 10 al numero 10 c'è una macchina di microsoft che si chiama voyager eus 2 basata su processori amd su schede nvidia insomma è una macchina molto molto potente piuttosto nuova e la cosa curiosa è che essendo una macchina di microsoft non gira con windows gira con ubuntu ubuntu linux allora io uso windows però c'è da dire che voglio dire lo spacciatore la droga la vende mica mica la consuma lo spacciatore serio no vabbè questo diciamo è una curiosità ma una curiosità stra cioè è una curiosità in realtà che non è così strana nel senso che sostanzialmente tutte le macchine che sono nella top 500 che è questa classifica che viene stilata queste macchine per calcolo parallelo estremo super potenti eccetera sono tutte girano tutte con sistema operativo linux sostanzialmente la macchina giapponese fugaku dicevamo ha redatta enterprise la macchina italiana ha invece centos che è sostanzialmente una versione molto simile a redatta enterprise insomma sono tutte macchine linux di fatto questo non stupisce molto perché linux ha un sistema di gestione di questo tipo di operazioni calcoli eccetera estremamente efficiente cioè di tutte le possibilità di tutte le possibilità che abbiamo per costruire macchine ad altissime prestazioni linux è quello che ci consente di utilizzare software scritto nei modi più disparati e di gestire il tutto con la massima semplicità questo sembra strano perché è un prodotto che nasce non commerciale ma oggi vince in questo settore tutto questo per dire che in realtà non c'è una soluzione che è valida per tutti e che funziona bene per tutti ma ciascun tipo di applicazione ha bisogno del suo sistema operativo corretto al punto che appunto perfino microsoft quando c'è da fare calcolo parallelo su un numero di core che è circa un quarto di milione nel suo caso per una potenza di 30 petaflop al secondo questo è diciamo il sistema operativo di elezione quello basato su linux però ovviamente ciascuno ha la sua le sue esigenze sono le sue esigenze che che devono pilotare le sue scelte spesso si sentono un po diciamo alzate di scudi di talebani di un sistema operativo di un altro ma sono tutte cose che lasciano un po diciamo ciascuno c'è le sue esigenze ciascuno usa quello che gli serve di più l'altra cosa che forse non abbiamo detto abbiamo parlato più volte di questi flop e che l'unità di misura con cui si misura l'efficienza diciamo la velocità con cui si calca con cui diciamo un sistema di calcolo riesce a fare i calcoli sono le floating point operation cioè sostanzialmente moltiplicazioni tra numeri con la virgola quante moltiplicazioni con numeri con la virgola riesce a fare al secondo e diciamo il teraflop sono mille miliardi il petaflop sono un milione di miliardi e il super computer fugaku ha una diciamo un'efficienza di picco stimata oltre mezzo milione di teraflop cioè mezzo petaflop al secondo questo è un numero mostruosamente grande consuma anche 30 megawatt cioè non è esattamente la macchina che potremmo usare a casa ecco se infatti c'è un'altra classifica quella dei 500 verdi cioè ci sono i super computer verdi che anche qui è il giappone che vince con un preferred networks che usa il mn core e anche qui questi sono quanti gigaflop per watt uno riesce a fare questo sta intorno ai 40 gigaflop per watt quindi con un watt riesce a fare 40 miliardi di operazioni al secondo che è assolutamente niente male cioè questi sono numeri tutti i numeri mostruosamente grandi ma come dicevamo anche per operazioni che sembrano come posso dire relativamente quotidiane quali possono essere le previsioni del tempo per avere modelli accurati e soprattutto essere in grado di fare previsioni accurate con prima che il diciamo che che il tempo cambi nel senso è inutile che io faccia straordinariamente accurata del tempo di domani ma poi ci metto tre settimane per fare quel calcolo ho bisogno di macchine macchine mostruosamente performanti quindi questo è il il diciamo la nostra la nostra situazione oggi è quella di avere macchine che costantemente superano quelle della generazione precedente perché non tanti anni fa la macchina potente era tiane il macchina giapponese scusate cinese che adesso è addirittura al settimo posto peraltro aveva quasi cinque milioni di core e una una potenza di picco una efficienza di picco di circa centomila teraflop al secondo oggi il fugaku va su sette milioni e sei centomila core e cinque volte tanto di efficienza di picco quindi diciamo una volta e mezza il numero di core e cinque volte la potenza di picco questo per dire anche quanto ciò nonostante la la diciamo ci sia necessità di avere di avere un continuo avanzamento anche in questo tipo di tecnologia beh sì poi un po se la battono sempre queste cose molto campanilistiche su qual è il la l'azione che c'è il super computer più potente così via che lasciano poco che trovano però la gara a migliorare sempre di più le performance c'è sempre ovviamente perché comunque appunto nel caso delle presioni del tempo adesso si riescono a fare cose che erano impensabili anni fa e poi anche altri calcoli stanno mostrando tutta una serie anche sull'universo non ne parleremo tra poco immagino però anche molto una serie di simulazioni su come si sono formate le galassie dopo il big bang sono un tassello essenziale per comprendere come sia fatto l'universo quindi e però appunto anche l'energia consumata è un parametro non trascurabile perché comunque questo si associa ad un costo assolutamente non trascurabile del di far funzionare questi super computer e che appunto poi spesso devono essere spenti quando la corrente troppo costa troppo e così via quindi non è per niente anche lì l'efficienza vale se tu riesci a tenere il tuo oggetto up and running cioè funzionante il più possibile altrimenti quello che conta è l'uptime non il tempo che stai calcolando esattamente esattamente ok lasciamo il magico mondo dei computer del supercalcolo che ovviamente serve a fare un sacco di altre cose tra cui reattori nucleari e cose di questo tipo per i quali sempre c'è bisogno di grande potenza di calcolo e hanno una importanza strategica che è un po diversa rispetto a quella magari del presidio del tempo molte altre cose e passiamo all'argomento totalmente diverso la nostra giuliana ha intervistato elisabetta bernardi che è nutrizionista ed è un'autrice di super quark e ha fatto una chiacchierata su alcune domande che abbiamo anche ricevuto attraverso la nostra chat di telegram che vi ricordiamo è molto attiva ci sono un sacco di persone che scambiano un sacco di informazioni e ci danno un sacco di spunti interessanti ciao a tutti amici di scientificas oggi parliamo di un tema che sta a cuore a tutti ma più che a cuore io direi nella pancia di tutti parliamo di nutrizione ed è un piacere avere con noi elisabetta bernardi che è specialista in scienza dell'alimentazione biologa e nutrizionista nonché tra gli autori della notissima trasmissione super quark ciao elisabetta eccomi qua ciao grazie di avermi invitato ti abbiamo invitato perché i nostri ascoltatori hanno iniziato a porsi una serie di domande che come sempre sono degenerate in una discussione chilometrica e noi vogliamo alla fine sapere chi aveva ragione e il tema della discussione era ma le calorie ingerite quando mangiamo qualcosa sono tutto nella dieta nella vita oppure no quindi partendo dal principio se io prendo una merendina e leggo le calorie quelle calorie sono quelle che effettivamente sto assimilando guarda non è proprio così non è proprio così perché c'è una pubblicazione proprio uscita qualche tempo fa che si chiamava una caloria è una caloria e spiegava che in effetti questo principio non era valido violava addirittura il secondo principio della termodinamica perché e danno la stessa quantità di energia ma su come poi l'organismo trasforma questa energia le cose cambiano molto per esempio le calorie fornite da delle caramelle hanno un effetto diverso sul peso corporeo rispetto per esempio alle stesse calorie fornite da una bistecca perché quello che succede è che diversi alimenti quando vengono digeriti comunque hanno dei meccanismi dei percorsi diciamo che altro biochimici diversi e alcuni sono diciamo più efficienti altri lo sono meno e dissipano più energia sotto forma di calore poi ci sono anche altri meccanismi da considerare perché alcuni nutrienti hanno delle azioni specifiche sui meccanismi che controllano la fame e la sazietà quindi diciamo che è un po più complesso del del soltanto tanto metto tanto acquisisco funziona proprio così ma da cosa dipende questa differenza di calorie c'è proprio dal tipo di alimento e tu hai parlato di anche in un certo senso se ho ben capito bruciare calorie per digerire alimenti però tipo l'ananas che fa dimagrire è vero no vabbè questo lascia stare gli alimenti che fanno dimagrire ancora non sono stati inventati però quello che noi nutrizionisti chiamiamo la termogenesi indotta dalla dieta senso appunto nutrienti diversi come dicevo prima hanno percorsi metabolici diversi e sono più o meno efficienti allora prendiamo diversi alimenti che portano tutti come quantità 100 calorie quindi prendiamo non so un mucchietto di caramelle una piccola porzione di pasta asciutta una fettina di carne ecco tutti nella quantità per cui apportano 100 calorie però poi quando noi andiamo a digerire questi alimenti il nostro corpo deve spendere l'energia quanta ne spende allora prendiamo il caso per esempio delle proteine quindi la nostra fettina di carne che per lo più 20 per cento è composta da proteine quindi noi sappiamo che le proteine apportano 4 calorie per grammo come quel per esempio dei carboidrati no anche carboidrati anche un grammo di carboidrati apporta 4 calorie ma quando l'organismo deve digerire le proteine perde molta energia sotto forma di calore quindi per esempio per digerire i grassi che sono efficientissimi sia per mettersi diciamo come cuscinetti sui nostri fianchi o sulla nostra pancia sono anche efficientissimi nella trasformazione di energia si perdono solo il 2 per cento dell'energia utilizzando i grassi per i carboidrati se ne perde dell'otto per cento e per le proteine se ne perdono ben 20 30 per cento significa che 100 calorie derivate da una fetta di carne a conti fatti corrispondono a 75 calorie mentre 100 calorie derivate da grassi sono 98 ecco e per quanto riguarda invece le calorie di carboidrati sono 92 ma io ora voglio fare una rivoluzione scusami ma perché devono scrivere questi valori fasulli sugli alimenti mettessero direttamente le calorie assorbite e poi non è così facile non è così facile perché poi comunque c'è anche una risposta individuale e poi non si può fare questo le etichette sono fatte secondo un altro principio tu prendi la composizione dell'alimento quindi c'ha tot di carboidrati tot di proteine tot di fibra e tot di grassi e moltiplichi la quantità di grammi di proteine per 4 la quantità in grammi di carboidrati per 3,75 per i monosaccaridi quindi soltanto zuccheri diciamo praticamente zuccheri semplici invece per carboidrati complessi si calcola sempre 4 per i grassi si calcola 9 per l'alcol si calcola 7 e per la fibra si calcola 2 comunque io farò una rivoluzione nel senso che tanto sulle etichette sulle pubblicità scrivono tante di quelle gretinate che penso che dire questo cibo in realtà corrisponde a solo il 70% delle calorie che leggete secondo me spopola io venderò questa idea guarda no ma in effetti il successo delle diete per proteiche un po' si basa su questo però poi a lungo andare le diete per proteiche non funzionano nel senso che comunque non si può mangiare solo proteine a noi abbiamo bisogno di tutti i nutrienti e poi a lungo andare possono essere anche dannose ma tornando un attimo indietro a questa misura delle calorie con quell'equazione che io già mi vedevo scrivere sulla lavagna eccetera quanto è preciso poi alla fine una misura delle calorie con quella formula? ma diciamo è molto precisa per quanto riguarda appunto le etichette perché è soltanto una moltiplicazione dei grammi per un fattore appunto proprio dei nutrienti quello è preciso però poi come ho detto prima quanto noi invece ne assorbiamo quanto noi ne utilizziamo effettivamente il discorso è diverso quindi il messaggio è non fatta una dieta basandovi sulle calorie scritte sulle etichette sì diciamo è chiaro che se io devo dimagrire devo avere un apporto energetico che sia inferiore rispetto al mio dispendio solo in questa maniera si riesce a perdere peso questo diciamo che è un principio base per tutte le diete però non è che bisogna proprio fissarsi sulle calorie o andare a leggere tutte le etichette era compulsiva diciamo bisognerebbe comunque avere come al solito ad azione molto variata se si vuole ottimizzare bisognerebbe per esempio incentivare l'uso di alimenti che apportano fibra perché la fibra fa assorbire anche meno grassi ma invece tutto il resto quanto incide cioè per esempio si dice di bere tanto durante i pasti o fuori dei pasti o alcuni dicono fare tanti spuntini altri dicono no solo due passi al giorno fare il digiuno intermittente il digiuno continuato ce ne sono tante che se ne dicono guarda quella dell'acqua a spetti è stata dimostrata in diversi studi cioè se uno si siede a tavola e la prima cosa che fa si beve ben due bicchieri d'acqua beve i bicchieroni d'acqua quello ha effetto sulla sazietà c'ha due tipi di effetto uno è proprio un effetto meccanico perché comunque l'acqua dilata le pareti dello stomaco e quello è già un segnale per l'organismo che hai più o meno mangiato abbastanza e quindi poi comincia a ridurre l'apporto quindi c'ha quell'effetto e poi spesso c'è l'effetto che la sete viene scambiata per fame quindi tu se bevi e hai l'abitudine di bere acqua puoi alla fine dei conti mangiare meno perché comunque ti disseti e non vai a cercare gli alimenti per dissetarti purtroppo dobbiamo specificare per chi ci ascolta che bere acqua non bere birra non si sa mai non estrapolate pezzi fuori dal contesto frasi fuori dal contesto e invece sul digiuno cosa si sa? guarda sul digiuno ci sono molti studi vabbè sugli animali sui topi anche alcuni studi sull'uomo hanno dimostrato per esempio l'abbassamento dei livelli di trigliceridi colesterolo, della pressione sul dimagrimento ci sono degli effetti ma non sono proprio evidenti in tutti gli studi però visti gli effetti sul diciamo salute cardiovascolare io mi sentirei comunque di consigliarlo anche perché poi è facile in che senso è facile? io voglio 10 volte al giorno digiunare non è facile no però non è che dici ah mangia poco di questo a volte le persone sono un po' spaisate invece gli dici guarda senti tu alle 9 e mezza di sera finisci la tua cena poi fino all'una e mezza del giorno dopo non mi mangi niente questo è abbastanza semplice da voler fare stai scherzando? la colazione? la colazione? prendi solo non so del tè del caffè senza zucca io posso farne 8 di digiuno quelle in cui dormo esatto infatti allungare il digiuno notturno però appunto non è per tutti e poi non si impara a mangiare fondamentalmente questo cioè l'obiettivo di una dieta è quello di insegnare alle persone qual è la dieta variegata quali sono le dimensioni delle tue porzioni quando si passano i 50 anni i 60 anni il nostro fabbisogno energetico diminuisce tantissimo non si può mangiare come quando si facevano 3 ore di sport a 20 anni sig sig purtroppo guarda io potrei andare avanti per ore a farti domande quindi diciamo non possiamo purtroppo perché altrimenti Simone ci sgrida che non rispettiamo le scalette però te ne faccio una proprio velocissima esiste un alimento che si può assumere senza preoccuparsi di nulla senza che ci siano conseguenze negative per l'organismo senza limiti qua c'è sempre la solita frase che si dice in questi casi che è la quantità che fa il veleno nel senso che in teoria ci sono studi pure che sull'acqua che bere troppa acqua possa essere negativa quindi dai io direi che invece l'approccio dovrebbe essere diverso nel senso non eliminiamo alcun alimento come il grande principio della dieta mediterranea la mia passione però prendiamoli nelle giuste quantità quindi se la nostra dieta deve essere soprattutto base di cereali frutta, ortaggi, legumi però tutti gli altri alimenti devono essere assunti perché comunque ci devono essere per comporre tutto il puzzle di nutrienti di cui abbiamo bisogno quotidianamente però insomma in quantità in vita eh va bene hai distrutto tutti i nostri sogni non possiamo bere birra a volontà non possiamo mangiare a volontà dobbiamo moderarci però va bene così va bene così io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi per aver risposto ai dubbi dei nostri ascoltatori magari poi ci risentiremo per una seconda puntata sulla nutrizione che è un tema che proprio fa gola a tutti ma è vero anche ai nutrizionisti grazie ancora a presto ben tornati dopo questo interessante intervento sulla nutrizione visto che insomma tra l'altro ci stiamo avvicinando al Natale quindi dobbiamo un attimino tenerci a bada per perché già sappiamo che a Natale mangeremo qualcosina di più qualcosina certo qualche cosetta proprio appena appena uno zinzino vabbè tornati ci sarebbe la barza questa non è scientifica comunque diciamo è pseudostorica perché come voi forse sapete le mura di Roma quelle aureliane messe nel IV secolo dopo Cristo per difendere Roma dalle attacche dei barbari hanno retto sono state utilizzate fino al 1870 dove poi appunto l'esercito italiano è entrato e ha preso Roma dal Papa però appunto lì vicino a Porta Pia sono entrati un po' vicino della porta hanno bombardato con i cannoni e sono passati e adesso hanno aperto hanno aperto un 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 parrucchiere e sai come si chiama? no la treccia di Porta Pia però prima prima c'era un'auto un'autoricambi lì e sai come si chiama l'autoricambi? non so non so se me la sento la treccia di Porta Pia va bene ho capito vabbè ci ho detto scusate scusiamo ci eravamo messi d'accordo perché non me la dicesse prima così almeno c'è una lezione pseudo originale è terribile bene allora torniamo agli argomenti scientifici anche questa è una notizia che in realtà di qualche tempo qualche settimana fa e diciamo è stata osservata una sostanzialmente una specie di croce di Einstein cioè un certo numero di immagini della stessa esplosione di supernova molto lontana dovute al lancing gravitazionale cioè se noi abbiamo un oggetto luminoso molto lontano e un oggetto molto massiccio tra noi e quell'oggetto luminoso la massa di questo oggetto intermedio deforma lo spazio-tempo e fa in modo che i raggi di luce provenienti dall'oggetto lontano vengano deviati verso di noi in qualche maniera quindi si formano un certo numero di immagini soprattutto se l'oggetto ha una forma una distribuzione di massa non regolare si formano un certo numero di immagini dell'oggetto retrostante e questo fenomeno di appunto lancing gravitazionale è stato osservato più volte e da una parte è una dimostrazione molto efficiente della bontà della relatività generale nel senso che questa cosa non potrebbe succedere senza se la relatività generale non funzionasse non fosse una buona descrizione della realtà dall'altra ci permette di vedere oggetti mostruosamente lontani come se avessimo un ulteriore telescopio magari diciamo con lenti che deformano un pochettino però in qualche maniera ci consente di andare a guardare cose ancora più lontane rispetto a quelle che i nostri telescopi ci consentono di vedere la notizia interessante è che questo diciamo questo oggetto questa esplosione di supernova che è avvenuta tipo circa 10 miliardi di anni fa in una galassia che ha questo nome MRGM 0138 un nome assolutamente diciamo impossibile da ricordare diciamo è apparsa questa supernova è apparsa in tre differenti immagini nel cielo dai nostri occhi dalla terra appunto perché la luce ha fatto tre differenti cammini deviata dalla varia distribuzione di masse di oggetti che sono tra noi e questa galassia lontana ora c'è stata una previsione che ci dice che è stata pubblicata su Nature Astronomy che apparirà una quarta immagine fra tipo 16 anni qualcosa del genere alla fine del decennio del 2030 questa diciamo questa ulteriore immagine potrebbe essere una cosa estremamente interessante per capire come è fatto l'universo su larga scala e in particolare per fare una stima della della costante di Hubble la costante di Hubble è una come posso dire è una costante universale delle più dibattute nel senso che mette in relazione la velocità di allontanamento delle varie galassie tra di loro con la distanza a cui si trovano cioè se noi immaginiamo il paragone solito che si fa è una serie di puntini su un palloncino sulla superficie di un palloncino io gonfio il palloncino ogni puntino si allontana da tutti gli altri e tanto più sono lontani due puntini tanto più velocemente si vedranno uno con l'altro che si allontanano la stessa cosa succede per l'universo in espansione e quindi le galassie in media si allontanano tra di loro e l'allontanamento è tanto più veloce quanto più le galassie sono lontane il fattore di proporzionalità tra la distanza e la velocità di allontanamento è questa costante di Hubble questa costante di Hubble è stata misurata in un sacco di modi diversi e fondamentalmente i risultati che si ottengono sono contradditori questo diciamo è un po' poco però quel tanto che basta da dare abbastanza problemi appunto ai cosmologi nel senso che fino a qualche decennio fa era molto più l'errore sistematico anche statistico era molto più grande quindi poi questa cosa non si riusciva a capire però via via che si è andata raffinando la misura e appunto con due metodi differenti la differenza adesso è tra i due set di misure comincia a essere preoccupante sì anche l'età dell'universo diciamo ad esempio le tante conseguenze che ha la conoscenza limitata della costante di Hubble è una stima dell'età dell'universo noi spesso sentiamo parlare che l'universo ha 13 o 13,8 14 miliardi di anni questo si basa su una stima di 67.4 chilometri al secondo per megaparsec di costante di Hubble questo è una come posso dire una delle possibili delle misure che sono state fatte diciamo le misure sono un po' in contrasto tra di loro come dicevamo e quindi in realtà l'universo potrebbe essere anche una miliardata di anni più giovane quindi diciamo il fatto di conoscere la costante di Hubble o di poterla misurare con una precisione maggiore ci consentirebbe di avere una come posso dire una stima più precisa di tante cose che sono legate alla all'evoluzione dell'universo nella nel suo nel suo complesso tra l'altro qualche tempo fa avevamo anche pubblicato un post su questo argomento circa un anno fa e in cui si si vedevano proprio tutte le le varie le varie stime che si dà che venivano date e appunto la la stima di 67.4 km al secondo per megaparsec viene dal fondo cosmico a microonde cioè da come è distribuita la radiazione residua della del del big bang nell'universo mentre invece dalle misure fatte con le lenti gravitazionali la stima porta a un valore ben più elevato 73.3 km al secondo a megaparsec che non è poco più grande cioè un 10% di differenza e il problema è che queste misure ciascuna di loro sono abbastanza accurate cioè vorrebbero essere precise l'errore che viene stimato è più piccolo della distanza tra le della distanza si parete la discrepanza è tra le misure fatte in antichità cioè sul fondo cosmico a microonde come dici tu e quelle fatte più recenti cioè sempre a una certa distanza ma comunque dirette e sulle supernova anche sulle supernova di tipo 1a che sono quelle che peraltro hanno fatto vedere che la costante di Hubble cioè che l'universo non solo si sta espandendo ma sta anche accelerando e come diceva giustamente Andrea poi questo è legato a questa famosa energia oscura che proprio già se non si sa che cos'è la materia oscura l'energia oscura non si ha proprio la più pallida idea di cosa possa essere cioè se la si può trattare matematicamente ma cosa sia che sta dando questa sgasata all'universo non c'è dato di sapere per questo che poi questa discrepanza potrebbe essere legata a questi due aspetti assolutamente ignoti eh sì infatti ci sono tante tante cose che ancora non conosciamo e peraltro appunto il fatto di avere misure più precise più accurate riguardo questo parametro ci potrebbe consentire di mettere dei ulteriori vincoli come giusto cioè il fatto che ci siano dei contributi potenzialmente difficili da descrivere da una parte ci potrebbe portare alla discrepanza dall'altra ci potrebbe potrebbe essere la discrepanza stessa a darci delle informazioni su quello che ancora non conosciamo quindi una volta che avessimo consolidato la nostra la nostra capacità di di comprendere di comprendere appunto di misurare correttamente questa costante questa questo l'effetto appunto di lente gravitazionale potrebbe essere di grande aiuto proprio perché le misure che sono state fatte finora sono compatibili con quelle fatte come dicevi giustamente con le supernove tipo 1a e quindi diciamo le più tra virgolette recenti stime dall'altra con i metodi più recenti però finora il massimo gap era molto più breve cioè era tipo un anno un anno e mezzo qualcosa del genere mentre invece la predizione di questo delay che sarà di 21 anni perché diciamo la prima osservazione del 2016 e la previsione dell'osservazione del prossimo lampo di luce è del 2037 è un qualcosa di molto più molto più grande e quindi in linea di principio dovrebbe consentire una stima della costante di Hubble molto più accurata peraltro è stato previsto anche un ulteriore quinto punto di luce che però dovrebbe essere troppo debole per essere visibile che dovrebbe arrivare durante il 2042 questo addirittura avrebbe un ulteriore un ulteriore come posso dire precisione contributo alla precisione di questa cosa quindi in qualche modo più come posso dire l'idea è questa cioè più tempo ci mette questa supernova a riapparire in quest'ulteriore immagine più è lontana dalla terra sostanzialmente la galassia che la ospita e quindi questo significa che la costante di Hubble è più bassa e l'universo è più vecchio quindi diciamo il fatto di avere di poter calcolare il gap in funzione della costante di Hubble e poi poterlo misurare più questo gap è lungo e più piccola è l'indeterminazione con cui possiamo andare a ricostruire la costante di Hubble e quindi questa cosa dovrebbe essere di grande aiuto per diciamo appunto migliorare la nostra competenza di questa grandezza quindi insomma al momento questa stima è in qualche modo non ancora ovviamente del tutto chiaro nel senso che ci sono degli altri scienziati che non sono del tutto d'accordo su questo tipo di su questo tipo di calcolo lo chiamano tensione tra i dati questo è un modo molto un eufemismo per dire io ti ammazzerei se potessi mi sono testimoni e quindi diciamo che più che pre-label perché poi queste sono misure differenti e più che altro se io faccio una misura appunto in fisica delle particelle in astronomia o anche uno spettro io misuro una cosa differente si dice appunto c'è tensione nei dati perché ti bucherei volentieri le gomme della macchina c'è tensione tra i dati ma anche tra i sperimentatori di solito perché nelle conferenze di solito si cerca di essere molto polite ma si vede la gente che dice se potessi mettere le dita negli occhi sì perché poi questo voglio dire non è solo la scoperta per ragione o no vuol dire sono soldi signora mia nel senso che tutto quello si rilaccia finanziamente e così via quindi c'è anche tutto un aspetto di venditore che non solo ovviamente nella fisica anzi vi è più nelle altre discipline che è legato poi ad avere o no ragione così riuscire a vendere meglio il prodotto del dato assolutamente sì ma in questo caso la difficoltà è anche proprio metodologica nel senso che ci sono degli scienziati che in qualche modo mettono in dubbio la non tanto la nostra capacità di osservare eccetera eccetera ma di modellizzare la distribuzione di massa con una accuratezza sufficiente da effettivamente porre un limite migliore alla come posso dire all'errore sulla costante di Hubble cioè uno può anche dire va bene sì noi siamo molto bravi vedremo intorno al 2037 potrebbe essere il 2038 o il 2036 la quarta immagine di quella supernova però se non sai quanta massa però l'errore sulla massa che c'è nel mezzo potrebbe essere sufficientemente grande da in realtà non dare un reale confinamento ecco quindi in qualche maniera la cosa sembra molto interessante perché appunto il fatto che ci siano due set di misure che sostanzialmente sono una intorno a 67 l'altra intorno a 74 chilometri al secondo per megaparsec non va bene cioè ci deve essere qualcosa che ci sfugge visto che l'errore che è sulle misure diciamo è 74 più o meno 1 o 67 e mezzo più o meno 1 sì sono molto piccoli il che vuol dire che c'è in mezzo c'è qualcosa che ancora non ci che ancora non ci convince non ci può convincere mettiamola così ecco magari vale la pena ricordare appunto che questa misura è la velocità con cui si allontano l'abbiamo detto ma insomma si allontano le galassie che appunto è 67-70 chilometri al secondo per ogni megaparsec quindi per ogni milione di parsec quindi per ogni 3 milioni di anni luce di distanza e quindi oggetti che stanno a 1 gigaparsec vanno appunto a quanto tanto 75 mila chilometri al secondo mila chilometri al secondo infatti questa velocità si misura proprio misurando lo spostamento verso il rosso dei vari oggetti cioè misurando la luce che invece di stare a una certa velocità a una certa frequenza sta a un'altra proprio perché viene spostata dall'effetto doppler quello che si citano sempre le ambulanze nel caso sonoro ovviamente quindi queste misure sono molto precise si sta anche discutendo della sistematica del problema appunto se in realtà poi si è tutta una questione strumentale o di interpretazione dei dati però appunto come diceva Andrea sembrerebbe piuttosto che no che è un problema teorico che va che va in qualche maniera capito ma si rallaccia un po' al fatto appunto che non si riesce a trovare la materia oscura ma soprattutto in questo caso all'energia oscura che su queste scale e su queste dimensioni è quella che che domina il 75% sì dovrebbe essere dominante perché poi in realtà essendo che nessuno sa cosa sia e nessuno sa come funzioni veramente cioè potrebbero essere anche modelli tutti quanti modelli sbagliati ancora c'è ancora margine per immaginare qualcosa cioè non per immaginare a questo punto per scoprire qualcosa che è ancora diverso rispetto a quello che a quello che sappiamo finora sì ipotesi ne hanno fatte tante tipo le Mond cioè modifare Newton and Dynamics ossia generalizzare ulteriormente la realtà generale ma essenzialmente hanno fallito nel senso che o metti la pezza a livello galattico o la metti la pezza a livello di ammasso di galassi o la metti a livello universale e tra l'altro ecco c'è da dire per ricollegarsi ai super computer che in questo ci aiutano le simulazioni al calcolatore fatte appunto dall'universo primordiale ossia se tu negli ingredienti farina acqua uova e così via non ci metti almeno un certo 25% appunto di materia oscura non ti si formano le galassie non ti si formano gli ammassi di galassie con questi filamenti e con queste strutture che sono quelle che osserviamo quindi una misura completamente indipendente ci viene poi dalle viscite del calcolatore piuttosto che dalla misura del cosmo e questo è confortante perché di nuovo rafforza le altre misure in questa maniera molto bene direi che in attesa che arrivi il 2037 che è proprio dietro l'angolo ma anche che diciamo qualcuno finalmente scopra qualcosa di nuovo in questo settore che è davvero in questo momento un po' il buco nero della fisica fondamentale cioè il fatto che ma è un disastro Andrea dai ovunque ci giriamo è un disastro poi la si può verniciare meglio o no appunto ma che tristezza che tristezza ma anche che opportunità sì sì però sono 30 anni che ci sono opportunità non si vede niente e finora non le stiamo ancora raccogliendo mettiamola così bene c'è ancora una piccolissima cosa in realtà che volevo dire molto rapida che non c'entra in realtà sostanzialmente nulla con quello che è stato fatto finora ma ISPRA che è un istituto per la protezione dell'ambiente ha pubblicato la cosiddetta carta della natura cioè una carta molto dettagliata di tutto il paese di tutta l'Italia in cui vengono mostrate le lo stato di conservazione naturale e di importanza naturalistica di rilevanza naturalistica del territorio con una risoluzione molto elevata questo è come posso dire interessante è per certi versi anche un po' triste per certi versi nel senso che il valore ecologico del paese è mediamente basso cioè ci sono parecchie zone che sono troppo urbanizzate troppo antropizzate troppo sfruttate in qualche maniera per essere davvero considerate dal punto di vista ecologico rilevanti questa cosa è un po' appunto triste per certi versi questa carta è stata già parzialmente pubblicata metteremo il link poi nella descrizione ma non ha ancora completa le varie di Dascalier insomma stanno ancora lavorando sulla documentazione per interpretarla nel modo più completo e corretto tutto questo ci tutto questo ci deve un po' far pensare cioè molto spesso sentiamo dire che tra le zone più inquinate d'Europa ci sono alcune regioni italiane in particolare la Valle Padana è considerata dal punto di vista ambientale una delle zone con l'aria più inquinata di tutta Europa e insomma l'Italia è un paese diciamo sempre un paese meraviglioso ci sono un sacco di cose bellissime c'è un clima fantastico l'arte la natura eccetera eccetera forse dovremmo iniziare a pensare di essere un po' più attenti nel conservarla e non è banale altrimenti anche lì ci sarà l'invasione dei cinghiali che oramai hanno già conquistato Roma ma credo anche Genova oramai si impreda ah guarda ho tenuto c'è un servizio che in realtà è utilissimo del comune di Genova su Telegram per tutte le varie emergenze e ho tenuto delle schermate di un po' di tempo fa in cui sembrava veramente un assalto coordinato nel senso che c'erano segnalazioni di cinghiali in svariati punti della città tutti la stessa sera cioè era quasi inquietante per certi versi il fatto che ci fossero così tanti così tanti cinghiali in circolazione escono dalle fottute pareti tipo alien 2 aliens è una cosa abbastanza preoccupante però diciamo questo per certi versi è un po' una riconquista della natura dei suoi spazi però insomma non proprio la cosa più sana di questo mondo per altri motivi nel senso che si tratta comunque di specie non del tutto naturali senza un equilibrio naturalistico reale che non sono nel loro abito tanto insomma ci sono tante cose per le quali non è proprio la soluzione esatta e migliore al problema ok direi che a questo punto possiamo passare a saluti e contatti come al solito ci trovate su tutti i social più importanti scientificast lo trovate su facebook twitter e instagram scientificast.it il nostro sito blog info at scientificast.it se volete mandarci un mail il canale telegram sempre come dicevo prima per anche interagire con altre persone direi che abbiamo detto tutto possiamo salutare e rimandare alla prossima settimana allora direi proprio di sì grazie e ciao ciao grazie a tutti Grazie a tutti